Il mondo ci appartiene! Oggi è una bella giornata! Lo sento nell'aria! Le dinamiche e le frasi di questo gioco mi hanno fatto impazzire! Ed è ora che tutto questo diventi realtà! Yahoo! Ti do il benvenuto! Ora che hai conquistato tutte le vette e le discese degli altri, sono pronta ad accoglierti nella mia dimora, il mio paradiso. Come le leggende alle quali ti stai unendo, puoi annoverarti tra i migliori. E per questo ti offro un dono. Un dono che molti rider possono solo sognare. La linea di una vita. Un maestoso viaggio, giù da una vetta, ricoperta di neve fresca, che conduce al panorama più spettacolare del mondo. Una distesa di ghiaccio, che risplende sotto il sole. Oggi è proprio una gran bella giornata! Lo sento nell'aria! Aiuto! 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 Mannaggia Steph! Avanti! Giovane marmotta! Vediamo che cosa sai fare! Aiuto! Lo senti? Questo è vivere! Aiutatemi! Aiuto! 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 Aiutatemi! Aiutatemi! Questa è casa nostra! È il nostro momento! Il mondo ci appartiene! Aiuto! Qua è altissimo, è alto! Aiuto! Perché ho giocato a Steve? Perché ho giocato a Steve? Aiuto! C'è qualcuno? Qualcuno? Uno? Manche solo uno! Uno! Ci avviciniamo alla curva! Ricordati di indignarti oppure vai ti facciare la neve fresca! Porca puttana! E a proposito di neve, mi raccomando, quella gialla non si mangia! Ora ragazzi, il nostro video è finito! Io non ho nulla contro i videogiochi, anzi amo i videogiochi, però se posso dare un consiglio, io non ci investirei troppo tempo e neanche troppo denaro perché con quei soldi, invece di vivere una determinata attività virtualmente, è possibile anche viverla realmente, spendendo quei soldi per frequentare vari corsi, per frequentare varie attività. Ecco, così ci si tiene in forma e si vive il gioco realmente! Poi fate quello che volete! Da questo paesaggio io vi saluto e vi aspetto per il prossimo video! Buong! Buong!